Oasi dell'Alberone, provincia di Bergamo, un posto eccellente per fare delle foto e godersi il fiume e la natura che lo circonda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La casetta è l'osservatorio ornitologico, quindi praticamente ci sono queste scalette d'acciaio, si sale e si può fare osservazione dell'aria palustre, ci sono animali acquatici e volatili. Il livello dell'Adda oggi è molto importante poiché le perturbazioni delle settimane scorse che hanno alzato parecchio livello. Vi suggerisco questo posto diciamo in una condizione dove il livello del fiume non è come quello di oggi ma un po' più normale perché l'accessibilità è garantita solo attraverso questo sentiero, questo qui, quindi bisogna fare tutto un giro molto più lungo e quindi passa praticamente a fianco del fiume. altrimenti c'è il pontile che è qui dietro e che passa tutta la zona palustre per arrivare a questo punto qui, la casetta. è una strutturazione anche il pontile quindi non è accessibile, quindi l'unica strada è il sentierino. Quindi questa appunto è la casetta ornitologica, questa è l'Adda e vi suggerisco questo posto magari mettere qui il treppiedi e fare qualche foto agli animali acquatici e volatili. Un posto molto tranquillo, non ho trovato nessun disagio nel raggiungere questa posizione, molto panoramica e si possono fare delle belle foto. Tutti i video e foto che avete visto oggi appunto sono stati ripresi tutto in questa passeggiata che ho fatto per arrivare alla casetta. Ricordatevi che filosofia fotografica sempre. Ciao cari! Grazie a tutti!